Benvenuti nel mondo degli orologi Tecnomarine. Tecnomarine è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1997 dal designer di gioielli francese Frank Dubarry. Da allora, il marchio ha guadagnato una reputazione di leader nel settore degli orologi di lusso, grazie alla loro attenzione all'innovazione e alla qualità. Gli orologi Tecnomarine sono noti per la loro produzione di orologi sportivi di alta gamma, con una particolare attenzione alla resistenza all'acqua e alla durata. Tuttavia, il marchio non sacrifica lo stile per la funzionalità, i loro orologi sono caratterizzati da un design moderno e audace, spesso realizzato con materiali di lusso come diamanti e oro. Uno dei tratti distintivi degli orologi Tecnomarine è la loro versatilità. Molti dei loro orologi sono dotati di cinturini intercambiabili, che consentono di cambiare facilmente lo stile dell'orologio per adattarsi a diverse occasioni e abbigliamenti. Oltre alla loro linea di orologi sportivi, Tecnomarine ha anche una collezione di orologi più eleganti, che combinano l'eleganza classica con l'innovazione moderna. Questi orologi sono spesso caratterizzati da quadranti sobri e dettagli raffinati, che li rendono perfetti per occasioni più formali. L'attenzione ai dettagli e l'abilità artigianale dei loro orologiai svizzeri si uniscono alla creatività dei designer francesi per creare orologi che uniscono stile e funzionalità con eccellenza.